Al terzo posto nella classifica dei trend tecnologici, le social tv sono una realtà. Possono essere una nuova sfida per le pubbliche amministrazioni che comunicano? Internet, video e social media uniti insieme possono permettere agli enti pubblici di raggiungere i cittadini in modo meno mediato? Queste le domande a cui ha risposto il convegno organizzato dal Consiglio regionale del Piemonte il 10 ottobre a Palazzo Lascaris. Parliamo proprio di una nuova generazione, cambia un po' il paradigma, canali di pubblica utilità grazie all'utilizzo del video. Noi qui oggi in Consiglio regionale parleremo della best practice legata alla web tv, alla social web tv e di altre esperienze che legano sempre di più i cittadini a quello che avviene sul web. Questa è un'amministrazione in qualche modo vicina a chi è in rete. Noi abbiamo puntato a creare una comunicazione integrata, l'abbiamo fatta con la nostra televisione streaming e con la nostra web radio. Questo cosa ci ha permesso? Ci ha permesso di sviluppare tre cose in principio. La prima di dare tre volte al giorno un'idea di quello che sarà il traffico e poi abbiamo cercato di dire chi siamo noi. Due volte l'anno sviluppiamo invece una diretta televisiva, cerchiamo di fare un servizio che sia un servizio per gli utenti e per il Paese.